Nel giorno dell'udienza di Convalida del Fermo, Maria Licciardi si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il boss dell'alleanza di Secondigliano, la cosiddetta Lady Camorra, è stata bloccata all'alba di sabato nell'aeroporto di Ciampino mentre era in partenza per Malaga. I carabinieri del ROS le hanno notificato un decreto di fermo emesso dalla procura di Napoli, che ipotizza nei suoi confronti i reati di associazione a delinquere di tipo camorristico, estorsione, ricettazione di denaro di provenienza illecita e turbativa d'asta, tutti aggravati dalle finalità mafiose. La donna, 70 anni, si è collegata dal carcere di Re Bibbia, il giudice ha convalidato il fermo. Intanto l'inchiesta va avanti, seguendo il filo rosso dei soldi gli inquirenti hanno scoperto che la boss aveva anche ottenuto un prestito di 150 mila euro dal clan Polverino di Marano, alleato storico dei Licciardi, soldi che servivano per pagare le cosiddette mesate. Un altro episodio emblematico della potenza e la forza intimidatrice di Maria Licciardi riguarda la sua intermediazione in un'estorsione che il clan Valenla Grassi di Secondigliano aveva fatto al titolare di un garage che apparteneva ad un affiliato dei Licciardi. Dalla cifra iniziale di 15 mila euro si era arrivati a 3 mila da pagare in tre rate. Era lei in sostanza che decideva chi doveva pagare le tangenti e chi no. Ma già una volta la DDA di Napoli ha contestato gli stessi reati alla Chanel di Gomorra. La precedente inchiesta a suo carico finì nel nulla grazie al suo legale Dario Vannettiello che ottenne l'annullamento dell'ordinanza di custodia mentre lei era latitante. Oggi la procura ci riprova a difendere la boss l'avvocato Cardillo che ha scelto per la sua assistita di avvalersi della facoltà di non rispondere.